Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel diciassettesimo giorno, diciassettesimo giorno sì, penso proprio di sì, chiesettesimo giorno, schiena e braccia, si incomincia con rematore, bilanciere, due serie di riscaldamento con 50 kg e vediamo quanto si riesce a tirare su, dai, quattro serie, sei barotto ripetizioni, due minuti di recupero e tra una serie e l'altra e dagli Ok, adesso ragazzi, siamo passati a stacchi, stacchi faccio leggeri, sto giro faccio con 160 kg, sei ripetizioni, tre serie sì, roba, roba fatta, va leggera, quasi come la scorsa settimana avevo fatto con, non avete visto il video, ho fatto 180 kg, otto ripetizioni sì, non vorrei ultra mega affaticare la schiena, quindi sto giro leggeri, 160 kg, sei ripetizioni e tagli adesso, ragazzi, tbar, tre serie da 8 bar 10 ripetizioni ho messo, ho messo 80 kg ragazzi per avere una schiena spessa bisogna utilizzare pesi spessi e non so neanche cosa sto dicendo, quindi ci vediamo durante la serie ragazzi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Picipiti e bicipiti. Primo esercizio, pushdown al triangolo. Faccio con 30 kg, 4 per 12 ripetizioni. Un minuto di recupero. Non c'è l'altra, no? E... Un minuto di recupero. Vabbè, ragazzi, sono sempre io. Non vi preoccupate, anche se non mi vedete. E adesso, secondo esercizio per tricipiti. French press alla macchina. 12 ripetizioni. 25 kg. 45 secondi di recupero tra una serie e l'altra. E a serie totali, 4. Un'altra, 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 un'altra. Burai da scopo. Un'altra, un'altra, un'altra. Un'altra, un'altra. Grazie a tutti. Adesso ho cominciato bicipiti, calo al cavo alto, 4x12, 4x12 ripetizioni, 45 secondi di recupero tra una serie l'altra e dai famo bicipiti, let's go! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.